Buon poveriggio Rossini TV, oggi sono proprio felice di essere qui a Mombaroccio, borgo medievale incantevole della provincia di Pesalurbino che oggi lo è ancora di più, ancora di più incantevole perché parte ufficialmente la ventitresima edizione di E' Natale a Mombaroccio, ritornano le cassettine di legno con artigianato locale, con gustosi prodotti enogastronomici tipici della nostra regione e davvero tantissime iniziative dedicate alle famiglie e ovviamente ai più piccoli. Vorrei ricordare che E' Natale a Mombaroccio si inserisce in un contesto ancora più magico, ancora più grande che è quello di Il Natale che non ti aspetti. Il Natale che non ti aspetti è un evento di cui Mombaroccio fa parte insieme ad altri 20 comuni della provincia di Pesalurbino che danno ufficialmente il via ai mercatini di Natale più belli del centro Italia. Ma voi rimanete con me qui a Mombaroccio perché mi hanno detto che tra poco nevicherà. Accanto a me il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci, sindaco quanto è felice oggi che inizia il Natale a Mombaroccio. Bellissima giornata, sentitissima, finalmente torniamo ai nostri mercatini a pieno regime, visto le restrizioni degli ultimi tre anni che ci hanno condizionato tantissimo. Io ho visto un lavoro immenso da parte dei miei volontari, veramente è stata una cosa impressionante. Non ero convinto di riuscirli a fare quest'anno per la mole di lavoro che si è intensificata. La crescita di questi mercatini è notevole e quest'anno è ancora più sentita visto quello che abbiamo passato negli ultimi anni. Quindi felicissimo, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, ai miei volontari, alla Proloco, alla Parrocchia, alle scuole, alla scuola di infanzia, alla scuola materna, alla primaria, tutti, tutti veramente hanno collaborato in una rete che ci rende unici nel nostro genere per quello che è un contesto territoriale della provincia di Perugio e Urbino e del contesto del Natale che non ti aspetti. Quindi felicissimo e avanti così. E ricordiamo, sindaco, che siamo alla 23esima edizione. 23 anni fa questi mercatini nascono nel chiostro di Monbaroccio con poche bancherelle e oggi diventano davvero importanti e coinvolgono tutto il comune. Assolutamente, hai fatto un'analisi perfetta. Siamo partiti 23 anni fa dentro un piccolo chiostro con la parrocchia, con tutti i piccoli mercatini di oggettistica fatti in casa, continuata poi con l'amministrazione comunale per poi passare alle Proloco e avere questo explora a livello nazionale e forse internazionale. Quindi un percorso di vita, una storia che ho condiviso perché comunque sono stati gli anni più importanti della mia vita e che ho visto crescere questo mercatino sotto le mie mani. Questa è una doppia soddisfazione, sicuramente. Accanto a me Ilaria Renzoni, presidente della Proloco di Monbaroccio. Ilaria, oggi parte ufficialmente il Natale a Monbaroccio. Esatto, oggi partiamo, il tempo ci assiste perché è tornato il sole, è sparita la pioggia per cui speriamo sia di buoni auguri anche per le prossime date future. Siamo molti emozionati perché è una ripartenza vera e propria questa e dopo il covid torniamo a vivere la magia del Natale come lo facevamo una volta, insomma sperando sia sempre più bello. Ilaria raccontaci un po' il programma di quest'anno del Natale a Monbaroccio se c'è qualche novità che ci dobbiamo aspettare. Sì, abbiamo qualche novità, abbiamo un giardino degli ignomi nuovo, abbiamo un mercatino di Natale storico all'interno del giardino di Palazzo del Monte, abbiamo confermato lo spettacolo della nevicata che dà sempre grande entusiasmo ai bambini, con uno spettacolo un po' revisionato quindi sarà comunque qualcosa di nuovo e poi abbiamo tante chicche sparse nei vicoli del paese che sono un po' di novità. Quindi un grande lavoro direi da parte della Prologo di Monbaroccio. Sì, il lavoro dei volontari è fondamentale perché senza il fulcro del gruppo, delle persone che danno il loro impegno, che danno tutto il loro tempo libero al paese sarebbe impossibile. Monbaroccio a Natale acquista una veste tutta nuova e vi invitiamo tutti oggi, domani e nelle prossime date che seguiranno. Ecco appunto, vogliamo ricordare le date? Esatto, domenica 27, seguiamo il 3 e il 4 dicembre, l'8 dicembre, il 10 e l'11. Sono all'interno di una delle ambientazioni di questa bellissima ventitresima edizione del Natale a Monbaroccio e accanto a me Beatrice Vincenzi che è la direttrice artistica a tutti gli effetti del Natale a Monbaroccio. E allora le chiediamo come ha realizzato queste bellissime ambientazioni. Allora grazie per le bellissime, ma la passione, la passione e l'amore che ho prima di tutto per il paese. Io sono nata qui e vivo qui, per cui lo sento proprio a livello viscerale. Poi ho cercato i posti quelli più nascosti, che sono quelli più belli a mio modesto parere. Questa è una nuova ambientazione, era un vecchio magazzino, come l'ho visto perché appunto le pianelle, il soffitto si presta moltissimo per quello che avevo in testa come progetto. Qui siamo in un paesaggio invernale nella casa dei pinguini, io dico, quindi siamo ospiti da questi animali meravigliosi. Alle mie spalle vedete appunto l'ambientazione integra, con tanta neve, molto suggestiva e particolare. Quindi credo molto in questo progetto e come dicevi appunto tu è la ventitresima edizione e la peculiarità proprio del Mercatino e Natale a Monbaroccio sono proprio le ambientazioni. Quindi siamo, come vi dicevo appunto, siamo all'interno della nuova ambientazione, ma ce ne sono altre, il paese di giugno invernale, la casa delle lanterne, la casa di Babbo Natale, il villaggio montano ed è caratterizzato appunto da questo e vi aspettiamo nei prossimi week-end e anche domani. Beatrice, quanto tempo ci vuole per la progettazione e la realizzazione di questo lavoro? Qui è un iter di lavoro enorme, i risultati a detta appunto dei visitatori è più che soddisfacente, però il lavoro è immenso, quindi nasce questo progetto sulla carta, prima della carta naturalmente mentale, quindi sulla base delle ambientazioni degli spazi che io vedo posso immedicimarmi nella nell'ambientazione e immaginare come e dove andranno gli ospiti delle rispettive ambientazioni. Poi materialmente è un lavoro altrettanto enorme e quindi sono mesi e mesi di lavoro, quindi noi cominciamo in estate a pensare, poi a ridosso appunto del mercatino c'è proprio un'affluenza non sempre abbastanza di persone ma sufficienti per poter realizzare quello che vedete. Beatrice, ti faccio una domanda per i telespettatori curiosi di Rossini TV, c'è un'ambientazione che piace di più agli adulti e invece quella che piace di più ai più piccoli? Beh, qui mi metti un po' in difficoltà perché a detta di coloro che vigilano, perché chiaramente non sono sguarnite di guardiani, tra virgolette, di queste ambientazioni, per cui quello che mi riferiscono mi dicono che sia i piccini sono entusiasti ma anche i grandi, quindi non saprei, la casa di Babbo Natale sicuramente è quella che piace, la letterina, cioè Babbo Natale proprio in persona e poi senza fare una classifica direi appunto tutti gli altri, ecco. Grazie a tutti. Ve l'avevo detto che oggi a Monbaroccio nevica! E dopo questa bellissima nevicata qui a Monbaroccio intervistiamo Damiano Bartocetti, presidente delle Proloco della provincia di Pesaro Urbino. Damiano oggi una grandissima giornata, doppio appuntamento. È Natale a Monbaroccio ma è soprattutto il Natale che non ti aspetti. Oggi abbiamo inaugurato la rete delle 22 Proloco e i 120, ma chiaramente non potevo non essere qui nella mia Monbaroccio che è con me cresciuta. Un grande ringraziamento lo rivolgo alla presidente della Proloco, a tutti i suoi volontari, al direttore artistico, perché il paese è veramente bello, è veramente una bomboniera. Inutile dire, inutile fare, che nessuno ce ne voglia, ma Monbaroccio è Monbaroccio. Tantissima gente, tantissimi turisti, vedete anche tanta neve che possiamo vedere qui cadere oggi. Diciamo che i nostri borghi diventano l'eccellenza del nostro territorio e soprattutto diventano un motore economico straordinariamente importante. Contiamo circa 260.000 turisti da tutta Italia nel periodo che va dal 26 di novembre al 6 di gennaio, grazie al grande lavoro dei nostri volontari. Ma non posso ancora non ringraziare la mia Monbaroccio dove sono cresciuto e dove continuerò a crescere e a promuovere il mio territorio. Damiano, l'ho ricordato prima in apertura con il Natale che non ti aspetti, diamo veramente il via ai mercatini di Natale più belli del centro Italia. Diciamo che con l'incoronazione tra l'altro del ministro, l'onorevole Santanchè e vorrei anche ringraziare il presidente Francesco Acquaroli, gli assessori e l'onorevole Baldelli che ci hanno veramente aiutato tantissimo, che hanno veramente creduto tanto al nostro progetto. C'è tanto ancora da fare ma da oggi partono tutti gli eventi della rete del Natale che non ti aspetti. Da oggi, da Monbaroccio, Fano, domani partirà Fossombrone, poi partirà Frontone la prossima settimana per poi concludere con la festa nazionale della Befana di Urbagna. Io invito tutti a venire a visitare i nostri borghi perché sono veramente delle bomboniere delle eccellenze. Seguite i nostri eventi sulla pagina il Natale che non ti aspetti e sulla pagina anche del Natale che non ti aspetti troverete il nostro numero di telefono dove risponderà sempre un volontario. Vorrei dire anche questo che grazie all'impegno dei volontari del Comitato Provinciale abbiamo un numero H24 turistico tutto l'anno che rispondiamo alle esigenze dei turisti che vengono nella nostra bellissima provincia. Sto per entrare nella casa di Babbo Natale, chissà se lo troveremo in casa. Venite con me, andiamo a vedere. Questo Babbo Natale si fa attendere. Nel frattempo noi andiamo a dare una sbirciata alla sua casa. Nicola Bagliocchi, consigliere regionale, presenti a questa ventitresima edizione di Natale a Monbaroccio. Ciao Nicola. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie, grazie dell'intervista. Io sono molto contento. Questa è una manifestazione che ormai si ripete da tempo ed è bellissimo, bellissimo per il nostro territorio, bellissimo per la Regione Marche e quindi siamo qui presenti e non mancheremo sicuramente mai. La Regione Marche sarà sempre vicina a queste manifestazioni territoriali che poi vanno veramente dietro a un tema, a un principio che è veramente importantissimo per noi il Natale e tutto ciò che ruota intorno al mondo del Natale, la nostra regione, le nostre tradizioni. Quindi siamo molto felici di essere qui e sarò qui quest'anno come gli altri anni sicuramente anche se non dovessi mai essere più consigliere regionale. Quindi sono cose veramente interessanti e grazie ancora. Accanto a me è Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto e ricordiamo che Cartoceto insieme a Monbaroccio fa parte di un progetto bellissimo che parte ufficialmente oggi che è quello del Natale che non ti aspetti. Assolutamente sì, intanto ci fa piacere condividere questo tipo di iniziativa e di progetto con Monbaroccio, un nostro vicino di casa, un comune con il quale condividiamo inevitabilmente non soltanto per amicizia, per stima nei confronti del sindaco e di tutta l'amministrazione ma anche perché la vicinanza ci impone soprattutto rispetto a quelle che sono le sfide attuali di collaborare per tanti progetti e ovviamente quelli a carattere culturale turistico sono uno di questi ambiti. E dopo Cartoceto anche Colli al Metauro con il suo sindaco Pietro Briganti che è presente qui per questa edizione di E Natale a Monbaroccio. Sono piacevolmente presente qui in questa inaugurazione oggi di questi mercatini proprio e ringrazio il nostro amico, collega, sindaco Emanuele Petrucci proprio perché c'è questa volontà di dare un segnale di unità tra noi sindaci di questi territori per cercare di mettere dei piccoli puntini in fila uno dietro l'altro per cercare di fare qualcosa di grande insieme con altri sindaci che sono presenti comunque nei nostri territori per dare questo segnale di volontà di crescere tutti insieme perché insieme si è più forti e si riesce a fare qualcosa di comune. Si sta per concludere questo speciale televisivo qui a Monbaroccio ma non si conclude il Natale che invece qui è appena iniziato. Ringraziamo la Proloco di Monbaroccio, il comune di Monbaroccio con il suo sindaco Emanuele Petrucci e noi ovviamente vi invitiamo a visitare questo borgo medievale incantevole che in questo periodo dell'anno lo è ancora di più e dalla Lapponia è tutto, un abbraccio da Roberta, da Rossini TV, alla prossima! Grazie a tutti!